Ancora buone cose dalla tavola di Daniela che quest'anno si è dedicata un po' a quello che è anche il salato dopo lunghi mesi dedicati ai dolci adesso è la volta di tutte queste buone pietanze preparate con il lievito madre e quindi oggi continuiamo con il lievito madre e la pasta però questa volta cotta in maniera particolare Allora oggi faremo delle pizze fritte e sempre questo percorso salato come hai detto tu sempre con il lievito madre come componente principale dei nostri impasti e attraverseremo un po' l'Italia perché parteremo dall'Emilia Romagna, passeremo per Napoli e scenderemo in Puglia Con che cosa? Diciamo nei particolari sono tre ricette di pizzette, possiamo definire così, fritte Come si chiamano? Diamogli un nome Allora esatto, la prima ricetta che andremo a fare sono le crescentine o gnocco fritto tipicamente bolognese Poi arriveremo a Napoli e faremo i nostri classici calzoncini fritti in due varianti con ricotta e salame e con la famosa scarola Dopodiché faremo anche le cartellate tipicamente pugliesi adatte proprio a questo periodo pre-natalizio Sì perché ormai ci siamo, siamo non molto vicini però ci siamo quasi a Natale Queste sono delle ottime ricette da preparare anche per la tavola di Natale Quindi prendete carta e penna così segnate ingredienti e quella che è la lavorazione e potrete stupire i vostri amici e parenti Quindi partiamo con la prima ricetta che sono le crescentine Esatto, crescentine o gnocco fritto tipicamente bolognese, insomma dell'Emilia Romagna come regione Ottimo in qualsiasi periodo che si presta molto per un antipasto, per esempio per il nostro Natale Gli ingredienti Esatto, partiamo subito con la farina, abbiamo 600 grammi di farina zero Dopodiché il nostro bellissimo lievito madre che andremo a sciogliere in 400 ml di liquido Così distribuito 300 ml di acqua tiepida e 100 ml di latte intero Poi ci metteremo un pizzico di sale, quindi io procedo subito per far vedere alle nostre amiche Ecco, mettiamo la nostra farina Dopodiché andiamo a prendere il nostro lievito madre che all'incirca è un 150 grammi di lievito madre Ricordate che sempre su un mezzo chilo di farina ci vorrà all'incirca un 150 grammi di lievito madre Allora, mettiamo il nostro impasto con l'acqua Lo dobbiamo far sciogliere bene Questo è importante, altrimenti si formano dei grumi, giusto? Esatto, esatto Il latte, la presenza del latte, io adesso sto facendo ad occhio, però vi ho detto I liquidi sono 400 ml totali, quindi 300 di acqua e 100 di latte Il latte, la presenza del latte, dà chiaramente morbidezza al nostro impasto Procediamo con un impasto bello compatto, quindi dobbiamo sciogliere Vedete, stiamo sciogliendo bene il lievito e lo dobbiamo inglobare nella nostra farina Aggiungiamo Se ce ne vuole un altro po' Sì, certo Poi, come tutte le paste, più la lavoriamo, più l'ammalgamiamo, più la rendiamo morbida e compatta E naturalmente la resa sarà migliore Ecco, sta prendendo corpo il nostro impasto Perché deve essere una pasta elastica Sì, sempre molto elastica, compatta ma elastica A questo punto, perché ricordi abbiamo sempre detto lontano dal lievito Mettiamo il nostro sale Abbiamo detto un pizzichino di sale Anche perché questo gnocco fritto è vero che è buono già di per sé da solo e assoluto E dopo lo vedrete Però diciamo che andrebbe farcito con salumi e con formaggi Questa in effetti è la ricetta bolognese Sì, anche perché a Bologna fa freddo, quindi si devono carburare insomma ben bene Noi lo possiamo fare anche plain, semplice Sì, sicuramente Però tu sai, il salume per eccellenza bolognese è la mortadella Per cui squacquarone, che è una sorta di stracchino e mortadella Sono, come si suol dire, la morte sua Ecco, abbiamo raggiunto un buon impasto Vedete, è soffice, è morbido, ha una sua consistenza A questo punto, che cosa succede? Come tutti gli impasti lievitati, lo copriamo con una pellicola Lo mettiamo a riposare fino al raddoppio Quindi il processo è terminato Adesso abbiamo la pasta qui sulla tavola ben stesa Esatto, ho preso una strisciolina di pasta dello spessore di un centimetro Lei è chiaramente lievitata, sono passati tutti i nostri tempi di lievitazione Ora dobbiamo procedere a creare queste crescentine Che non sono altro che dei rombi Allora, con una rondella di queste dentellate Noi cominciamo a tagliare in questo senso E poi andiamo a creare dei rombi Allora, o li facciamo belli grandi O naturalmente li possiamo fare anche più piccini Però diciamo che una via del genere Insomma, una misura del genere è l'ideale Per questo che cosa succederà adesso? Andranno fritti in abbondante olio di arachidi Normalmente nella ricetta originale Andrebbero fritti nello strutto Ma la cosa Mio Dio Perché le calorie salirebbero all'esterno Ma anche insomma ai tempi della digestione È una cosa fritta nello strutto La vedo abbastanza impegnativa Per lo stomaco delicato che ci ritroviamo Allora, questi qui adesso Vanno immersi in una bella pentola di olio bollente di arachide A 170 gradi Ricordatevi sempre la temperatura dell'olio E la qualità dell'olio Perché l'abbiamo detto anche in altre trasmissioni La frittura è qualcosa che non fa benissimo Ma non fa neanche malissimo Quindi ogni tanto si può fare L'importante è fare una buona frittura Quindi scegliere un olio che ci consenta di mantenere il punto di fumo E quindi non sprigioni sostanze che possono essere cancerogene Quindi l'olio di arachide è sicuramente l'olio di semi che si presta E' il migliore sicuramente Si presta per questo tipo di fritture A 170 gradi Va immerso Quindi dobbiamo utilizzare un pentolino che abbia delle sponde alte Perché? Perché una buona frittura deve essere anche asciutta Per renderla asciutta Noi dobbiamo immergere il nostro prodotto in olio bollente In modo che tutta la superficie venga sigillata E quindi all'interno noi avremo un prodotto fresco ma non unto E questo è molto importante Quindi detto ciò Noi andiamo a friggerle Eccole qua Sono fritte Guardate come diceva Daniela Una frittura fatta bene Deve essere asciutta Infatti ce l'ho in mano Praticamente non unge nulla Adesso che cosa farai? Allora come ti dicevo Questo è buonissimo già così Questa crescentina O gnocco fritto Che dir si voglia Solo che noi lo andiamo a farcire Quindi che cosa facciamo? Per farcirlo bene Lo tagliamo nella parte gonfia Voi avete visto che prima la pasta era schiacciata Quando noi lo intingiamo nell'olio Se abbiamo fatto un buon impasto Si gonfia E vedete all'interno è cavo C'è proprio una tasca Questa tasca chiama qualche cosa sì Eh sì sicuramente Che cosa facciamo? Come ti dicevo Sono riuscita a reperire dello squacquarone Che è una sorta un po' anche di stracchino morbido Che in Emilia Romagna si usa molto Anche nella piadina E lo andiamo Vedi a riempire per bene Poi ci prendiamo la nostra bella mortadella Di cui avevamo parlato Che purtroppo non è proprio quella Emiliana Una bolognese però La arrotoliamo perché noi gli dobbiamo dare sempre una forma carina E la andiamo a posizionare come una rosellina Nel nostro gnocco fritto crescentina Poi per esempio un'altra La faremo con salame e formaggio Sempre vedi come si aprono facilmente Salame per gli affezionati Insomma di quelli che sono i salumi più delle nostre latitudini Esatto Però se noi prendiamo un buon salame felino per esempio Accontentiamo un po' tutti L'importante è sempre scegliere prodotti di qualità Insomma Se riusciamo a trovare buoni prodotti Chiaramente noi avremo anche un prodotto migliore poi Diciamo da consumare Sono belli, sono buoni Poi sono anche facili insomma da preparare Abbastanza veloci Magari si possono fare anche per la solita partita Con gli amici Con gli amici del marito affamati Che cosa si può fare? Ecco questi vanno benissimo Che dici tu? Sì questi sono perfetti Con una birretta eccetera Sono veramente perfetti Naturalmente ripeto Questi possono essere utilizzati anche come pane Come sostituzione del pane a tavola Per accompagnare diciamo Un qualsiasi altro piatto Con verdure eccetera E quindi noi adesso continuiamo a riempirli E dopo l'Emilia Romagna Un tributo a casa nostra Quindi a Napoli E infatti Daniela sta preparando Una cosa proprio tipica napoletana Il calzoncino Esatto Adesso faremo dei calzoncini fritti Che sono appunto Una nostra ricetta Proprio tipicamente napoletana Che si presta molto a questo periodo Della vigilia di Natale Quindi sono ottimi da consumare In genere nelle case appunto Si consumano nel periodo La sera della vigilia Come antipasto Come apripista del cenone Questi segreti del calzoncino Li hai imparati da qualcuno in particolare? Si devo confessare Che l'esperta di calzoncini fritti È mia suocera Che da buona napoletana Insomma conosce queste antiche ricette napoletane E io ho carpito da lei Un po' tutti i segreti Per cui stasera Faremo questi famosi calzoncini fritti Di nonna Terry Bene Allora diamo subito Quelle che sono le dosi Gli ingredienti Vabbè qua è una pizza Quindi sono le dosi tipiche Della pizza Giusto? Si esatto Non vi ho fatto vedere l'impasto Perché l'impasto grosso modo È quello della pizza Lo abbiamo già fatto altre volte Comunque la quantità è sempre Un 500 grammi di farina zero Un 300 ml di acqua Mi raccomando che sia tiepida Un 100 grammi sempre del nostro lievito madre E un pizzico di sale Procedimento solito Lievitazione fino al raddoppio Dopodiché si procede A stendere la nostra pasta Sempre di mattarello Come piace a te Il mattarello che poi serve sempre Contro il marito discolo Esatto Esatto In questo caso gli lanceremo Il calzoncino sarà più contento Penso Questo vedi è una Veramente una tradizione a Napoli Il calzoncino fritto Noi oggi lo faremo Sia nella versione con La ricotta E salame Un po' di scamorza Parmigiano E sale Sia con la famosa scarola Allora io adesso Con un coppapasta Mi vado a ricavare Due dischi Stendiamo bene la nostra pasta Ne facciamo proprio uno e uno Per far vedere alle nostre amiche Voi naturalmente Riuscirete a farne molti di più Allora Adesso stendiamo un po' la nostra pasta E andiamo a prendere la nostra buonissima ricotta Che io vi consiglio di preparare magari la sera prima Perché così Come mai? In frigorifero tende a compattarsi In modo che durante la frittura Non avremo sorprese Questo perché in genere la ricotta Rilascia un po' di latte Quindi se sta un po' come dire Riposata Diventa un po' più solida Esatto Vedi quando lei riposa Diventa un po' più compatta E noi riusciamo poi ad ottenere Sicuramente un prodotto migliore Durante la frittura Ora lo richiudiamo a mezzaluna Facciamolo vedere ai nostri amici Lo giriamo di qui La sigillatura del calzoncino È molto importante Perché nel momento in cui Non lo sigilleremo bene Lui Innanzitutto Esatto Quindi dobbiamo cercare di togliere Tutta l'aria all'interno E poi con una forchetta Vedi gli diamo proprio Questa dentellatura Tipo raviolo Tipo raviolo insomma Poi non facciamolo esplodere Questo calzoncino Perché altrimenti la cucina Diventa un guaio Vedete Abbiamo realizzato Il nostro calzoncino Adesso invece Andiamo a fare l'altro Con la nostra scarola Questo più adatto Magari a chi Sta un po' più Attento alla linea Qua c'è la verdura Quindi è un po' meno calorico È sicuramente buonissimo Perché la scarola Ha un sapore incredibile Soprattutto preparata Così alla napoletana Sì Io l'ho fatta anche Con un goccino di vino cotto Devo dire la verità Che mi piace Gli dà un aroma particolare Poi ci sono Le olive nere I capperi L'uva passa I pinoli Insomma un po' tutto Ecco qua Adesso ne ho messa troppa Altrimenti non riusciamo a chiuderla Poi un tocco Che invece metto io Che mi piace Sono le nuci Allora Un gheriglio di nuce E poi ci metto anche Due dadini Di asiago Che durante la cottura Si scioglieranno E daranno Un buon sapore Al nostro calzoncino Anche qui Aspetta che togliamo Facciamo molta attenzione Quindi a togliere l'aria All'interno del saccottino Perché altrimenti Poi tutta questa nostra fatica Verrà vanificata Perché si aprirà Quindi insomma Non sarà più possibile Servirlo Esatto No E più che altro Tenderà ad aprirsi Quindi rovinerà anche Il nostro olio Perché tutto andrà a finire Nell'olio Ecco qua Allora Quindi abbiamo Con ricotta E con scarola Pronti per essere fritti E Daniela Che profumo Sei una tentatrice Guardate come sono belli Dorati C'è l'imbarazzo Della scelta Chi lo vuole con la verdura Chi lo vuole con la ricotta C'è pure quello Di buon appetito Che li mangio tutti e due Eh sì Dai Non sono tanto grandi Volendo si possono mangiare Allora Questo è il nostro Calzoncino Con la ricotta Salame Parmigiano E un po' di scamorza E poi adesso Vi vado a tagliare Anche quello Buonissimo Questo mi piace Veramente tanto Abbiamo capito Che è il tuo preferito Anche che poi ci hai messo Le noci Che sono un alimento Indicato per le donne Perché sai benissimo Insomma Che sono La frutta secca Per noi donne È fondamentale Poi c'è la verdura Quindi è proprio Un calzoncino al femminile Sì Questo è uno dei miei preferiti Devo essere sincera Perché poi adoro le verdure In particolare la scarola Quando posso Ci metto anche I pistacchi E gli anacardi Ti assicuro Che sono buonissimi E quindi continuiamo Questo giro Metaforico Per l'Italia Siamo partiti Dall'Emilia Romagna Abbiamo toccato Napoli Con i calzoncini Adesso approdiamo A sud Italia Con la Puglia Che propone Una ricetta dolce Esatto Faremo le cartellate Queste pure Sono tipicamente Del periodo natalizio Risalgono addirittura Al XVI secolo Sono antichissime Come ricetta E sembra che abbiano Proprio la forma Della corona Quindi con tutte le sue spine Infatti viene Tagliata Con una rondella Dentellata Allora Questa pasta Deve essere stesa In maniera Molto sottile Come è composta Questa pasta Diamo un po' Di informazioni Sicuramente Diamo la ricetta Allora 500 grammi Di farina zero 200 ml Di olio D'oliva 100 ml Di vino Bianco Poi c'è Un pizzico Di sale E poi Ricordiamoci Sempre Un po' Del nostro Lievito madre 100 grammi Di lievito madre Poi tu hai preparato I diavoletti Ma quello serve Diciamo poi Per la decorazione Lo vediamo dopo Quindi stendiamo Questa pasta Ben bene La vedo molto elastica Molto resistente Sì Diciamo che l'ideale Sarebbe stenderla Con la nostra nonna papera Cioè con la tirapasta Sì Perché quello ci permette Di avere Una pasta sottilissima Perché veramente Deve essere Di una certa Diciamo Ma noi che vogliamo Essere filologici Quindi del 1500 La stendiamo Quei lo facevano Allora Col mattarello Ce l'avevano La nonna papera Secondo te Beh Penso che la tirapasta Sia un attimino Di epoche Più recenti Però io le ho viste Fare in Puglia E devo dire Ci sono queste nonnine Che stanno lì Con il loro mattarellino E ne fanno Una quantità Abnorme Anche perché Poi loro Le preparano Nel periodo Di Santa Lucia Quindi intorno Al 13 di dicembre E poi vengono consumate Perché si conservano Benissimo Un po' come i nostri Struffoli Vengono consumati Durante tutto Il periodo Di Natale Allora Diciamo che siamo Riusciti A dargli Insomma Una lunghezza Giusta La dovremmo avere Bella Sottile Sottile Vedi La sto tirando Un po' Però a questo punto Adesso ci fermiamo E cominciamo A tagliarla Allora Che cosa dobbiamo fare Dobbiamo tagliare Un rettangolo Lungo di pasta Ecco qui Togliamo qui Il mattarello Che non ci serve più Ecco qui Intanto da casa La state seguendo Io so che poi Le ricette di Daniela Le provate Nelle vostre cucine E vengono anche bene Vero? Riceviamo tanti complimenti Entrambe Perché veramente Dice che questa Trasmissione piace E questo ci fa piacere Perché noi poi In effetti La facciamo per loro Quindi è importante Che loro poi Si cimentano In queste ricette Dicono che siamo Simpatiche Anche nell'approccio E quindi Questo ci fa piacere Allora Che cosa ho fatto Nel frattempo L'ho piegata in due La pasta Vedete A questo punto Io la devo pizzicare Perché deve formare Come delle borsettine Perché in queste borsettine Poi Noi andremo A mettere Cosa Delle cose buone Esatto Allora O ci mettiamo del miele O ci mettiamo Del vino cotto Io oggi le ho fatte Col miele Con i confettini Perché mi sembrava Più carino Però Naturalmente Possiamo metterle Anche con Con il vino cotto Allora Ogni 3-4 cm Più o meno Pizzichiamo La nostra pasta Dopodiché La dobbiamo andare Ad arrotolare E Dove era Aperta Noi andiamo A pizzicare Di nuovo Ecco Questa è un'operazione Che richiede Una certa manualità Bisogna farla Con attenzione Altrimenti Tutte queste taschine Che poi riceveranno Le cose buone Le cose dolci Vengono vanificate Quindi qua Bisogna un po' Esercitarsi Un po' Di pazienza Sì Esatto Non verrà subito Bene Poi vedi Adesso con le luci calde Che abbiamo in studio Qui praticamente Tende la pasta Ad ammorbidirsi Molto Bisogna insomma Esercitarsi Un po' Dobbiamo dargli Un po' Una forma Per intenderci Di una rosa Ecco qui Allora Diciamo che più o meno L'abbiamo Ecco Sigilliamo bene Chiudiamo E apriamo un po' Le nostre taschine Vedi che più o meno È diventata come una rosa Ok Adesso questa qui Andrà sempre fritta Nel nostro bello olio di arachide A 170 gradi Fino a doratura È stata fritta È dorata È asciutta Ed è pronta Per essere farcita Esatto Vedi Questa adesso È ancora un pochino calda Adesso prendiamo Il nostro miele Un buonissimo miele Di ischia Perché poi È vero che la ricetta È pugliese Ma noi dobbiamo difenderci Anche le nostre Di tradizioni E la andiamo A insaporire Con il nostro miele Cerchiamo di farlo Entrare bene Vedi nelle confessure Cioè dove ci sono Quelle piccole taschine Così Questo ci servirà A parte per il sapore Per dargli comunque Un buon aroma Anche come collante Perché noi adesso Ci andiamo a mettere Dei confettini colorati Che fanno tanto Natale Anche questi No? Ecco qui Abbondiamo Ed eccola pronta La nostra cartellata Pronta per essere mangiata Allora Sono qui Tutte e tre Le ricette Dei tre luoghi D'Italia Così distanti Ma così vicini In quella che è La bontà Della tavola nazionale Intanto noi Vi vogliamo far soffermare Anche su un pezzo Di artigianato Perché Nella famiglia di Daniela Non si spreca niente Sono tutti bravissimi Virtuose delle mani Questa qui è stata fatta Dalla tua mamma Guardate che bello Adesso nessuno più Fa queste cose qui E intanto Qua ci sono I calzoncini Le cose dolci E tu hai anche messo Qualche cosa Per accompagnare Sì Una bella birretta Che diciamo Si presta benissimo A quello che abbiamo Realizzato oggi Queste sono le nostre Crescentine O gnocco fritto Ripiene Che abbiamo fatto Prima come prima ricetta Questi invece Sono i nostri Bellissimi calzoncini Con ricotta Salame E con la scarola E per ultimo Le nostre cartellate dolci Pugliesi Che appunto Ci accompagneranno Per un dolce finale Dopo che avrete provato Come sicuramente farete Queste ricette Mandate le vostre foto Sulla piattaforma Social Di Daniela In modo che possiamo Ammirare anche noi Quelle che sono state I vostri Così I vostri tentativi Di copiare La maestra Se diciamo così Intanto Ricordiamo Qual è il sito Qual è l'indirizzo Di Facebook Con il quale Tu ti interfacci Con le persone Sì La mia pagina Facebook Le delizie di Daniela So che siete bravissimi A casa Quindi mandate le vostre foto Che saranno anche Migliori risultati Dei miei Quindi Così è bello Perché capiamo Che è bello Condividere Perché appunto Tutto ciò È fatto Proprio per creare Un buon rapporto Di condivisione Con i nostri amici Che sono a casa Grazie 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 Grazie